Oh, buongiorno. Sì, è partito. Ciao. Vediamo, zoom un po'. Vediamo un'altra occasione, oggi non posso. D'accordo, per ora. Oggi non ricevo nessuna. Velocemente. D'accordo. Ciao. Ah, dimmi, quella della guerra è finita. La guerra è finita, l'altro giorno per telefono. Svegliati, la guerra è finita. Fabio, svegliati. Sì, sì, certo. Svegliati, svegliati, Fabio, che la guerra è finita. Cioè, ancora, quindi, perché sei rimasto stonato, eri stonato dalla tua espressione, no? L'altro fatto, guarda, svegliati, svegliati, che la guerra è finita. Sì. Cioè, non devi essere intronato come sei ogni tanto, ma devi essere allegro, sereno, sveglio, in gamba. Eh, guarda, 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 che bello. È arrivata la luce. Sta arrivando la luce, la luce, ecco, si è fatta la luce e la luce fu, disse Dio. Quindi se ne sta andando un attimo solo. Vabbè. D'accordo. Comunque, grazie ed è stato un piacere di questa ripresa, istemporanea. Speriamo che sia venuta bene. Un bocca al lupo per l'acquisto di questa telecamera. Speriamo che tu possa registrare con questa tua macchinetta delle cose stupende, delle immagini stupende, il lavoro che ti arrivi, il lavoro che tu ami tanto, quello di operatore, perché in fondo regista, sono le cose che tu ami fare in un film. Va bene? Grazie. Grazie a te. Grazie. Ciao. Chiudo la porta. Ah sì, chiudi la porta. Bello con la cittura. Ciao. D'accordo, ok. Ciao. Un bacio.